Castrovilli Pallone promettente, il difensore che può spingersi in avanti Una risposta di Carlo D'Azzi Il potere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda Ha avuto un vizio da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima, cosa sta per accadere? I liberi, dalle statistiche della mia disperizione, ha realizzato il quarto del stagione